eccoci qua ragazzi per un'altra recensione oggi vi parlo delle analog obsession ripeto li farò un po tutti sia gli ecolizzatori sia soprattutto i preamplificatori che ha realizzato questo produttore questa ditta questa volta vi parlerò del bxq che equivarrebbe al bug sandal q sta per ecolizzatore bx bug sandal bug sandal perché i filtri shelving low shelving high shelving e low cut e high cut sono di tipo bug sandal che è colui che ha inventato ormai qualche annetto fa qualche parecchio netto fa ha inventato appunto questa tipologia e questa pendenza di filtri e questo ecolizzatore ovvero il bug sandal viene di solito usato negli studi professionali e super rigorosi aggiungo io di mastering soprattutto può essere usato anche in uno studio di mixing ma di solito vengono usati negli studi di mastering perché perché come si vede da questa emulazione che riprende to cure proprio al perfile per segno la macchina reale emulata che è un rec è un ecolizzatore rec di solito vedete che come gain o cut abbiamo più 5 meno 5 nello shelving ma anche nel life shelving più 5 meno 5 vedete non sono valori esageratissimi anche come in e out più 5 meno 5 vedete non va oltre questo cosa vuol dire cosa vi sto cercando di dire che vengono usati soprattutto negli studi di mastering perché non è tanto quanto si aggiunge o si toglie perché ripeto vedete i valori vanno da 0 più 5 da 0 meno 5 quindi molto basse rispetto ai meno 12 meno 15 o addirittura meno 18 o più 18 ovviamente di tanti altri ecolizzatori perché non c'è bisogno di fare degli add oltre i più 5 o dei cut oltre i meno 5 perché siamo in mastering di solito appunto vengono utilizzati in mastering e in mastering non c'è bisogno di aggiungere o tagliare oltre i più o meno 5 decibel se c'è bisogno di aggiungere o tagliare oltre i più o meno 5 decibel di solito i mixer e ingegneri professionali tendono a suggerire tornate in fase di mixing e mettete a posto in fase di mixing piuttosto che andare a togliere dei 10 12 decibel o aggiungere dei 10 12 decibel in fase di mastering perché vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi dovete tornare un attimino fare un passettino un attimino indietro e tornare in fase di mixing ecco perché vi dico è usato soprattutto in mastering però per quei più o meno 5 decibel potrebbe essere caricato anche su una traccia in mixing nessuno ce lo toglie di questa possibilità vi ho già detto anche in altri video e ve lo ripeto anche in questo anche oggi gli unici limiti quando si fa musica sia in mixing sia in mastering è la nostra è la nostra fantasia non c'è nient'altro è la nostra fantasia l'unico limite è la nostra fantasia perché per tutto il resto se abbiamo fantasia possiamo fare quello che vogliamo ovviamente nessuno ci vieta di usarlo anche in mixing è più raccomandato il suo l'utilizzo di questo ecolizzatore in fase di mastering prendetela con le pinzette così come ve l'ho venduta allora andiamolo a vedere innanzitutto un'altra cosa ecco stavo dimenticando che ci fa capire che questo è un ecolizzatore più da mastering che da mixing è vedete la possibilità di attivare allora con engage si attiva l'ecolizzatore infatti vedete lo spento engage lo vado ad attivare sono in armonica analysis e vedete che aggiunge già una armonica prima a 2000 hertz che è il multiplo della 1000 quindi è una di secondo ordine quindi pari e una seconda armonica 3000 che non è un multiplo della prima e non è anche un multiplo della mia frequenza fondamentale quindi sarà di terzo ordine quindi un'armonica dispari quindi due armoniche una pari la prima e la seconda dispari con questo rapporto di gioco di volumi tra la prima e la seconda non abbiamo un gain in ingresso per andare diciamo a saturare il segnale anche perché questo non è un ecolizzatore che in teoria dovrebbe saturare e quindi colorare il segnale ma dovrebbe essere abbastanza neutro anzi aggiungo il più neutro possibile perché quando si lavora in mastering a meno che non lo si voglia appositamente creare l'effetto bisogna lavorare con strumentazione che non vada a colorare troppo il suono perché il suono viene colorato in fase di mixing in fase di mastering abbiamo bisogno di strumentazione che non colore più di tanto quindi anche questo non dovrà colorare più di tanto ma come vedete dicevo abbiamo solo un gain più o meno 5 che secondo me è uno stadio di uscita voi direte perché è tutto raddoppiato left e right perché possiamo mettere e quindi far lavorare il nostro ecolizzatore in mid side se premo mid side il pulsante si accende di rosso e vedete che abbiamo il side che è la parte sopra e il mid chiedo scusa il mid che è questo il side che è questo il mid che è questo e il side che è questo e il mid anche la fase di uscita se non premo su mid side lavorerà in lr e quindi avrò left right left right e left right anche nell'out quindi nella sezione di uscita quindi posso comandare il left right o il mid e il side in modo separato non c'è un tasto per linkarli quindi sia che lavoro in left right in stereo sia che lavoro in mid side premendo sul relativo tasto avrò che vedete agendo su un potenziometro dovrò intervenire anche sull'altro altrimenti interviene solo su uno dei due canali e attenzione questo perché il l'analogo perception non ha previsto un tastino per linkare i due canali almeno io non lo vedo secondo me non si possono linkare andiamolo a vedere abbiamo uno shelving lo shelving ovviamente sulle basse 40 60 96 140 240 480 700 1200 e lo vedete anche dal pop up che salta fuori quindi se seleziono la mia frequenza di intervento e con questo potenziometro appunto più o meno 5 scusate andiamo in linear analysis e vai meno 5 più 5 ed è uno shelving e lo vedete vedete il bug sandal è questo è caratteristico perché ha una curva sia in additing che in cutting molto delicata molto dolce molto poco ripida ok questo è il bug sandal quindi questo è lo shelving dalla parte opposta abbiamo un high shelving quindi selezionerò la mia frequenza e anche qua aumento e anche qui bug sandal vedete molto delicato o cutting tolgo ma vedete che ho una riga violetta e una riga azzurrina perché la violetta è right e vedete che io sto diminuendo o aumentando solo il right se voglio fare la stessa cosa anche sul left dovrò vedete una volta impostato il filtro agire anche sul left così così sono aumentati tutte e due perché se io agisco solo su uno e mi dimentico di agire sull'altro agisco solo su un canale in questo caso right e non left se metto così avrò agito sul side e non sul mid sta scritto qua ok siamo intesi è chiaro il messaggio perché non sono linkabili bastava un tastino qua link e quindi spostando uno si spostava anche l'altro probabilmente con un prossimo aggiornamento spero Analog Obsession tenga conto di questo mio suggerimento vi dico subito un'altra cosa che non mi fa impazzire tantissimo non è tanto la funzionalità di questo equalizzatore che secondo me è divina come tutti i plugin ripeto ultimi di Analog Obsession che mi piacciono molto ma è un piccolo difetto secondo me nella parte grafica cioè capisco che Analog Obsession il creatore di questo plugin abbia voluto creare questo effetto 3D creando queste due vedete righine verticali nere di fianco alla riga centrale qua cromata grigia del potenziometro per dare probabilmente quell'effetto di tridimensionalità però secondo me è invece creato solo del casino vedete che infatti cambia in base alla luce che l'ha colpì perché sarebbe l'effetto che lui vuole rendere di questo potenziometro che è in 3D e non in due dimensioni quindi è su tre dimensioni anziché su due è tridimensionale e non bidimensionale capisco il buon intento ma non è stata realizzata secondo me molto bene crea un po' di casino io l'avrei lasciato tutto grigio questo potenziometro qua e parlo di tutti ovviamente i potenziometri li avrei lasciati tutti grigi spero anche qui che il produttore Analog Obsession mi ascolti ascolti la mia preghiera il mio suggerimento e li tolga e modifichi diciamo un attimino la parte grafica per il resto funziona da dio ragazzi dicevo abbiamo lo shelving e l'i shelving con left e right e left e right per aumentare o togliere la sezione output per il left e right sono questi due potenziometri non ci rimane che il low cut filter e l'i cut filter sulla sinistra abbiamo il low cut filter vedete 10, 20 Hz, 30 Hz, 41 Hz, 50 Hz, 62 Hz, 71 Hz e anche da questo low cut filter si capisce che l'impronta di questo equalizzatore come vi dicevo all'inizio è più da mastering che da mixing perché un low cut che taglia da 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Hz al massimo capite bene che è più da mastering che in fase di mixing in fase di mixing ho bisogno di high pass filter o low cut filter che si spingono un po' oltre ai 70 Hz che almeno arrivino intorno ai 300-400 Hz perché in fase di mixing ho più bisogno di tagliare per esempio determinati suoni quindi pulire determinati suoni sulle frequenze basse qua arriva fino a 70 perché appunto è più indicato in fase di mastering dove al contrario della fase di mixing in mastering non ho bisogno di tagliare tantissimo anzi già arrivare a 70 secondo me si toglie una buona fetta preponderante di basse frequenze quindi c'è da stare attenti in fase di mastering secondo me oltre i 30-40 Hz non bisogna andare ma questo è un mio consiglio personale ovviamente e lo stesso vale per l'iCut filter che vedete che a differenza degli iCut filter o low pass filter che dir si voglia è la stessa cosa che troviamo sui colizzatori più da mixing che da mastering come questo abbiamo che per esempio in quelli da mixing non si parte da 35.000 ma si parte magari da 20.000 e si va però più in basso dei 12.000 questo invece parte da una frequenza ben più alta delle 20.000 addirittura 28.000 e 35.000 quindi capite che siamo più spostati per il mastering e non arriva al di sotto delle 12.000 mentre un ecolizzatore da mixing ha un iCut o low pass filter che può arrivare anche 6-5.000 Hz si spinge ben oltre anche qui per gli stessi motivi del low cut filter su un mastering non ho bisogno di andare oltre questa frequenza con il taglio su un mixing invece ho bisogno di pulirle di più i suoni così intanto vi ho dato anche qualche suggerimento nel mentre direi che per questo ecolizzatore è tutto anche per questa volta vi saluto e alla prossima ciao a tutti